Gentili telespettatori, buona giornata. Antonio Tajani, Forza Italia, diventa il politico più amato dagli italiani. Giorgia Meloni esclusa in quanto Premier. Vediamo qui che Antonio Tajani entra in classifica con un 34% secondo Ipsos. Al secondo posto Salvini che sale di due punti percentuali, Giuseppe Conte e Schlein crollano uno di un punto, l'altra crolla di 5 punti. Poi vediamo che sale anche Maurizio Lupi, crolla Fratoianni, scende Bonelli, sale Carlo Calenda e sale Renzi. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti e grazie. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a presto.